Ciao a tutti ragazzi, sono Petro, Igor e il tanke E questo è il secondo video, cioè no, è uno dei tanti video Però questo è un altro video che faccio per far vedere la mia casa, il terzo forse Sì, il terzo video che faccio E dopo l'ultimo episodio vi ho lasciato con la promessa di farvi vedere questo edificio Poi, aspettate Dove porta questa scala e dove porta questa scala Allora, innanzitutto vi faccio vedere questa scala Allora, questa è una scala gigantesca che adesso non vi faccio sorbire perché è fatta bene Però non vi do questa secca torre Alla fine di questa scala c'è la torre La grande torre che vedete da laggiù Guardate che bello Ah, lì ho fatto un lago, non so se voi ce l'avete già visto E poi ho fatto le mura tutto attorno Poi ve le farò vedere Quando farò vedere quella roba la sua Vabbè, questo è il... è la torre Una delle due cose che vado a farvi vedere Giù Qua c'è una cassetta Con... adesso ci mettiamo Vediamo se trovo banana Banana Niente banana Allora mettiamo Coniglio No, non ciniglio Coniglio No, coniglio Io volevo un coniglio Coniglio Voglio Zappa Eh, ho una zappa Oh mio dio Zappa Ora che ho una zappa Posso diventare un zappa terra Ah, qua su invece Faccio vedere cosa c'è C'è Totti che corre nudo C'è il portale E intanto qua, vabbè E arriva su E c'è tutto Lo spazio è grande, no? Vabbè, ve lo faccio vedere dopo Qua c'è un'enorme vetrata Vi faccio vedere giù E... Qua... C'è... Mai... C'è il portale C'è tutta questa roba attorno Qua vi faccio vedere Giù La cavanda Ok, qua C'è La stazione Che arriva E ci sono le varie ferrovie Per altre città Vedete qua si va Una galleria Tutte brane Qua si va In altre città Si va Three land Una galleria Ed è tutto fatto benissimo E... Niente, qua lo sto ancora facendo Comunque La ferrovia passa da qua sotto Passa sotto terra Passa sotto terra Ed esce Da 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 Qui E va avanti C'è la mia città C'è la mia casa Va bene Allora Questo è il lago Che ho fatto io Artificialmente Notate che Subito si arriva Al C'è Se qua Vai giù Muori E quindi Questa è una cosa brutta Perché ho sbagliato le impostazioni Però Accade Togliamo la mia amata zappa E... Niente Comunque L'ha una roba improvvisata Deve migliorarla Qua ci sono le mura Che non le ho ancora finite Magari quando vedete il prossimo video Le ho ancora finite Allora Come promessa Nel prossimo video vi farò vedere Quella città di là Quella città di là E poi Boh Ti avrò fatturito qualcos'altro Vi farò vedere Ah Vi farò vedere Una cosa Che è qua Cioè Io ho scaricato Un po' di mappe E ve le farò vedere Magari non nello stesso video però Prima o poi le farò Allora grazie a tutti E al prossimo